Ciao, sono Lucia, vengo dalla provincia di Taranto e da circa tre anni sono ospite di questa bella realtà che è Casa Cilla, fatta di persone, di cuore, di gente umana che si prende cura dei suoi ospiti, che li accoglie, li supporta e offre loro tutto il supporto, tutto insomma il loro aiuto di quello che hanno di bisogno, sia a livello pratico che a livello umano. Niente, sono belle persone, lavorano sodo, senza chiedere nulla in cambio e sono sempre molto disponibili a non farti sentire solo, ad aiutarti e offrirti tutto il loro servizio, a darti consigli e starti accanto. Casa Cilla vuol dire fratellanza, non sentirsi soli, incontrare nuova gente, Casa Cilla vuol dire confrontarsi e vivere ogni volta un'esperienza diversa. Io viaggio su, vengo su con mia mamma e ringrazio Casa Cilla perché nel momento in cui io non sono con lei, sono partita in ospedale, lei non è sola, io sono sicura che sta bene dove sta. Quindi niente, auguro a Casa Cilla e a tutti i suoi collaboratori di continuare così, di non smettere di prestare il loro servizio per gente come noi che ha bisogno comunque di un aiuto pratico ma soprattutto morale. e niente, tanti auguri Casa Cilla, buon anniversario!